All'interno del settore siderurgico questa rivoluzione digitale credo che sia appena cominciata ma che stia già dando i primi frutti, i primi segnali. Ci sono sicuramente impianti nel nostro mondo, nel settore siderurgico, che cominciano a viaggiare su dati che vengono raccolti e utilizzati per migliorare il prodotto. È sicuramente una sfida importantissima, sia a livello impiantistico ma soprattutto a livello di crescita umana per essere in grado di utilizzare bene tutta questa mole di dati che vengono messi a disposizione. Anche voi avete appena fatto un importante investimento in questo senso? Sì, un amminatoio per barri in qualità dovrebbe partire prima della fine dell'anno. Devo dire che ci ha impegnato tantissimo, ci ha impegnato tantissimo, come ripeto, sia a livello tecnico ma come sviluppo anche delle competenze e delle capacità che poi in questo laminatoio dovranno lavorare, dovranno esprimersi, dovranno farlo funzionare secondo i crismi migliori. Per cui è una bella sfida, siamo fiduciosi che riusciremo a trarne molti benefici, soprattutto in termini di qualità che potremmo presentare al cliente, in termini di costi, siamo molto fiduciosi che otterremo dei buoni risultati.